ciao ragazzi benvenuti ad un nuovo video sul canale youtube armari ingross accessori per negozi vi ricordo che potete seguire tutte le nostre novità oltre che sul nostro sito armari ingross.com che è un e commerce anche sulle nostre pagine facebook e instagram e di seguirci naturalmente sul canale youtube su cui ci state guardando adesso oggi ho deciso di parlarvi dello spillo doppio che supporta i segnaprezzi ed è disponibile in acciaio asi 302 idoneo per gli alimenti e anche in pvc sempre certificato per il contatto con gli alimenti naturalmente questo tipo di spillo è indicato per le gastronomie salumerie i formaggi e la pescheria e ovunque si reputi necessario infilzare lo spillo è dotato di una clip che a scattini si muove avanti e indietro quindi inclinabile ed ha veramente un brevetto che supporta segnaprezzi addirittura di un formato 14x10 come questo che stiamo mettendo adesso e che noi abbiamo creato per le pescherie eccoci qua e lo potete inclinare la forza che ha questo sostegno si vede già da adesso perché segnaprezzi non si muove quindi come lo mettete lui rimane la caratteristica dello spillo doppio è che quando lo infilzi sul prodotto che potrebbe essere un salume o un formaggio naturalmente e devi andare a prendere il prodotto successivo quello un po più avanti sul banco frigo lui non si gira quindi non gira su se stesso come può capitare se lo spillo fosse singolo essendo doppio appunto ha la capacità di rimanere fermo lì e ci dà anche un buon aiuto mentre stiamo lavorando di fretta noi e gli altri salumieri del banco per ipotesi quello in abs altrettanto robusto è indicato sia per formaggi e per salumi mentre quello in acciaio lo possiamo soprattutto consigliare dove il formaggio alla crosta dura che potrebbe essere un formaggio stagionato la confezione è da 10 pezzi e la trovate qui sotto cliccando sul link nella sezione accessori per segnaprezzi la sottocategoria è spigli trovate sia questi spilli la colorazione bianca però come vedete dal nostro esempio anche neri abbiamo tutto correlato ragazzi vi saluto grazie per l'attenzione e al prossimo video ciao